Un murales realizzato con bottiglie di vetro riciclate e compadisc, messaggi vincitori di un apposito concorso realizzato dall'Associazione Impronte Poetiche che diventano parte del paesaggio urbano del Rione Fornelle ed anche una panchina smart che ricarica telefonini e si alimenta con energia solare. Sono gli ultimi passi del progetto Messaggi in bottiglia, programma di attività che la Fondazione Alfonso Gatto e l'Associazione Impronte Poetiche hanno svolto nel Rione Fornelle della città di Salerno nell'ambito del progetto Il Decoro Premia presentato da Salerno Pulita, dal Comune di Salerno e cofinanziato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia e dal Consorzio Nazionale per il Recupero del Vetro. Alle Fornelle questa mattina, alla presenza del sindaco di Salerno e dell'amministratore unico di Salerno Pulita Enzo Bennett, è stato scoperto il nuovo murale realizzato dall'artista Grimpino utilizzando vetri di bottiglie. Il murale si compone anche dell'ecoverso di Caterina Falciglia, vincitrice del concorso Verde Poesia. È stata poi anche scoperta la panchina smart con caricamento wireless che è stata installata sempre nel Rione delle Fornelle. Ringraziamo Correve che ci ha assistito in questo progetto di rigenerazione urbana con un livello anche culturale, con l'arte, in un quartiere storico, in un quartiere di arte, un quartiere molto visitato dai turisti che arrivano a Salerno. Il rifiuto è innanzitutto educazione, educare i giovani, tutti i ragazzi che hanno partecipato. Va al nostro ringraziamento anche alla scuola. Diciamo che a Salerno è nato un nuovo senso civico, si sta ritornando piano piano alla normalità. Sarà anche una panchina? Sì, la panchina tecnologica che andremo adesso a vedere, che si carica in maniera, sarà la possibilità di caricare i cellulari, si ricarica con il sole, anche un tocco moderno in un quartiere storico. Il rione delle Fornelle si arricchisce di un altro murale, di un'altra opera d'arte molto bella, devo dire, con i versi di Franciglia, che ha scritto un verso splendido a decorazione, a compimento e a completamento dell'opera. E così ancora una volta il rione Fornelle rientra in una logica di promozione di uno spazio che si va arricchendo di ora in ora di altre opere d'arte. Qui si viene ormai nelle Fornelle, che ha un suo cospicuo valore anche ambientale e storico, si viene nel rione delle Fornelle anche per dare uno sguardo a questi murales, che configurano uno spazio che si va modificando sotto i nostri occhi. Credo che sia un'operazione di grande valore sociale, oltre che artistico, e la città si freggia anche di quest'altra prerogativa. Preside, è un progetto che ha coinvolto anche la sua scuola? Assolutamente sì, il plesso Lanzalone si trova proprio nel centro storico della città di Salerno, per cui abbiamo partecipato con i nostri allunni a questo progetto, il riciclare e poi con questi murales e con dei lavori che sono in esposizione nell'atrio del plesso Lanzalone. Quindi rinnoviamo il sodalizio con le associazioni del territorio e con il comune di Salerno.